Buongiorno, siamo qui con Annalisa Laudando che è la dirigente scolastica del di Vittorio Lattanzio a Viateano, Roma. Dottoressa, come valuta la collaborazione tra il vostro istituto e una realtà del terzo settore come Fondazione Mondo Digitale che batte molto sul tasto della digitalizzazione? Sicuramente molto positiva perché le competenze digitali nella società attuale sono fondamentali e soprattutto conoscere e avere competenze digitali spendibili sia nel mondo del lavoro che nell'ambito scolastico sono importantissime. Non dimentichiamo anche il famoso Digicom 2.1 naturalmente del Consiglio Europeo che spinge proprio all'acquisizione di competenze digitali che siano anche volte alla consapevolezza dello strumento del digitale. E quindi automaticamente una costruzione, potremmo dire, sia in ambito scolastico che lavorativo attraverso il digitale. Il vostro istituto ha aderito a progetti come Ambizione Italia insieme a Microsoft e Coding Girl con vari attori partner del mondo delle imprese e delle istituzioni. È importante mettere i ragazzi nelle condizioni di avere contatti con partner del mondo del lavoro oggi? Decisamente, anche perché i nostri ragazzi devono avere la possibilità di valutare tutto quello che il mondo del lavoro e ovviamente i percorsi universitari offrono per un orientamento consapevole e la spendibilità delle stesse competenze acquisite nei percorsi scolastici o attraverso il PCTO sia direttamente nel mondo lavorativo che successivamente nell'ambito universitario. Grazie. 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 Grazie.